oh eccoci qua ciao bionda è in diretta amore se le è piaciuto lo dica ci lascia la sua testimonianza se te è piaciuto dillo ti è piaciuto ok anche a voi amore vi è piaciuto ti è piaciuto maschio grazie fatti c'è una buona pubblicità ciao ragazzo io fuori legge non ho fatto niente io tutto regolare bravo ragazzi attento zio ciao signori se vi è piaciuto ditelo perché siete in diretta ciao campione campione number one ok grazie 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 thank you very much gentilissimi grazie a voi se vi è piaciuto seguite i nostri social facebook instagram imperial royal circus e condividete la diretta eh grazie di cuore buon rientro gentilissima grazie ciao arrivederci ciao ciao signori se vi è piaciuto ditelo perché siete in diretta quindi lei lo consiglia a tutti bravo amore mi raccomando seguite i nostri social facebook instagram twitter youtube google tiktok imperial royal circus e mi raccomando condividete la diretta eh che la vostra testimonianza vale oro anche la sua amore dove stai che stai chico aspetta che prendiamo la pistola no la pistola no ciao grande simpatici ciao a bello babbo ciao grazie aspetta aspetta se vi è piaciuto diciamocelo bene allora anche la bionda si mette in mente su allora anche te ragazzi se vi è piaciuto ditelo eh vi è piaciuto è piaciuto bellissimo 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 venite a vederlo bravo poi con lui è troppo simpatico siamo a torvaglianica fino al 25 poi ci andiamo a bionda ti abbiamo inquadrato bellissimo grazie grazie ciao ciao arrivederci ciao ciao signori ciao a voi ciao bellissimo lo spettacolo ah grazie amore allora domani spiaggia dilla a tutti eh mi raccomando facci una buona pubblicità eh grazie ciao arrivederci amore ciao 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 grazie siete in diretta eh se vi è piaciuto ditelo eh bellissimo è stato bravissimo grazie grazie mi raccomando fateci una buona pubblicità e mi raccomando seguite i nostri social ciao ragazzo amore ti è piaciuto? sì allora domani in spiaggia dilla a tutti e mi raccomando facci una buona pubblicità grazie 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 la vostra disponenza vale oro per noi ciao bionda anch'io sono una bambina che voglia una foto con te non ne posso fare foto amore però sei in diretta puoi dire se ti è piaciuto grande grazie anche a voi ciao ciao amore grazie ciao arrivederci ciao ciao cucciolo anche lei bionda se ti è piaciuto amore lo dica ti è piaciuto? mi raccomando mi raccomando seguiti i nostri social facebook instagram twitter youtube google tiktok google insomma imperia l'oreal circus e condividete la diretta così vi vedete eh imperia l'oreal circus grazie buon rientro ciao nonna nonnina giovane mi è piaciuto amore? sì grazie mi raccomando allora lo dica a tutti eh grazie che la sua testimonianza vale oro per noi grazie ciao se vi è piaciuto ditelo a tutti mi raccomando assolutamente allora dovete condividere la diretta andate su imperia l'oreal circus facebook insomma alla grande perché la vostra recensione per noi è oro grazie di voi e ben voi rientro e buon ferragosto a tutti grazie a voi ciao grazie a voi ciao signori buon ferragosto innanzitutto se vi è piaciuto ditelo che siete in diretta ti è piaciuto? ecco era perfetto riveniamo pure alla grande amore così mi raccomando seguiti i nostri social eh imperial royal circus anche lei ragazzo ciao grazie di cuore buon rientro prego signori oh la la oh la la ciao signora buon ferragosto grazie per aver passato il ferragosto con noi eh grazie di cuore ciao amore ciao 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 amore ciao ciao bravissimi bellissimi grazie grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei